Ciao! Oggi come leggete dal titolo e come vi avevo preannunciato su Instagram, trovate in descrizione il link al mio Instagram se volete seguirmi, perché lì vi tengo molto più aggiornate rispetto a YouTube, sono qui a filmarvi il video All Prime Impressioni, Swatch e Test, infatti mi vedete completamente struccata perché andremo a provare insieme per la primissima volta questi prodotti di Revolution Pro. Da quello che ho capito, Makeup Revolution adesso ha cambiato nome, ma anche iHeart Makeup, tutti i brand sotto Makeup Revolution hanno cambiato il nome e si dovrebbe chiamare tipo Revolution Makeup, poi esiste Revolution Pro Makeup, Revolution Heart Makeup, una roba del genere. Poi se sbaglio correggetemi nei commenti, però da quello che ho potuto vedere nei video è così. Io ho acquistato questi nuovi prodotti su un nuovo sito che non avevo mai provato, perché sul sito di Revolution Makeup italiano e su Machiliaia, che sono i due siti che io conosco, non sono ancora arrivati questi prodotti. Non so se nel mentre vi sto registrando questo video e quando lo vedrete, non so quando lo vedrete, saranno disponibili anche su quei siti, vi scriverò tutto nell'info box. Per ora vi lascio appunto il link a questo sito che si chiama revolutionbeauty.com. Questo qui, mi è arrivato tutto in questa bustina, tutto imballato con la carta che scoppietta. Ora, so che ha un nome, però non mi viene in mente. Parlando un po' del sito, io ho ordinato il 4 aprile e mi è arrivato tutto il 16, quindi più o meno ci hanno messo due settimane. Essendo un sito inglese, secondo me è un bel po'. Solitamente tipo Beauty Bay, che è un altro sito inglese, ci mette a esagerare una settimana per arrivarmi i prodotti. Quindi è un po' lungo come sito, però appunto, vi ripeto, era tutto perfettamente intatto. Con 45 euro, se non erro, di prodotti, le spese di spedizioni sono gratuite, altrimenti sono di 3,95 euro, sempre restando in Europa. Non si paga la dogana perché ovviamente è un sito inglese. Quindi direi di iniziare subito, senza perderci troppo in chiacchiere. Inizio dagli occhi, quindi vi mostro le due palette di ombretti che ho acquistato, che fanno parte della linea Revolution Pro Regeneration, che hanno un prezzo di 8,99 euro, contengono 18 ombretti con 0,8 grammi di prodotto e una scadenza di 12 mesi dell'apertura. Io ho preso la Revelation, che è praticamente la copia della palette di Huda, la Rose Gold, solo che io non possiedo quella di Huda, quindi non vi posso fare un confronto anche per quanto riguarda gli swatch, se effettivamente sono simili come colori, però appunto, vi ripeto, vedendola così è praticamente lei. Anche per quanto riguarda la texture dei vari ombretti ho notato delle differenze, non tanto tra gli opachi, scusatemi, ma per quanto riguarda gli shimmer metallizzati. Ad esempio Dominate, spero di averlo detto bene, risulta più difficile da prelevare e più trasparentino come base colore, almeno con le dita, rispetto agli altri che sono molto più scriventi. Quindi proprio ricorda appunto la differenza di texture che sono presente nella Rose Gold, non tanto quanto la Rose Gold, però ecco, si avvicina come idea, non mi veniva il termine. E poi l'altra che ho preso è la Trenze Celestial, che invece è un po' più particolare e l'ho presa proprio per questo motivo. Mi ispirano un botto questi colori cotti con delle strisce diversi bicolor, quasi. Poi ci sono ovviamente degli opachi, però ecco, penso che sarà la palette che andremo a utilizzare oggi, proprio perché voglio vedere come si comportano, specialmente perché quando li ho swatchati con le dita la fila centrale non è risultata così tanto pigmentata fin da subito. Io ho fatto tre passate, quattro anche per farvi vedere il colore che state vedendo nei vari swatch, mentre nell'altra palette con due passate erano già molto pigmentati come shimmer metallizzati, mentre degli opachi ho fatto in entrambi i casi tre passate, giusto per farvi capire perché non sono stata lì a mostrarvi ogni volta che swatchavo l'ombretto perché altrimenti non finiva più questo video, già sarà lunghissimo, me ne rindo conto. Quindi per velocizzare vi ho già mostrato tutti gli swatch, spero appunto che vi piaccia lo stesso. Comunque avvicino un attimo la ripresa così vediamo cosa fare perché non ho la più palida idea. Allora, io non so da dove iniziare perché ero partita con l'idea di utilizzare questi verdi che mi ispirano un casino, solo che guardando i rossetti che ho acquistato e di cui vi parlerò dopo non so quanto potrebbero starci bene, di conseguenza ho ripiegato su di nuovo un trucco rosa-viola quindi magari andrò a utilizzare queste colorazioni, adesso vediamo e di questa voglio utilizzare in primis questo color burro che nell'altra non è presente opaco per andare a opacizzare tutta la palpebra mobile e quella fissa. Adesso dall'altra palette vado a prendere questo colore qui e lo applico nella piega. Ok? Ora faccio un mix dalla palette Simil Huda Beauty, mettiamola così, di questi due colori prendo più questo rispetto a questo per ora, poi magari vediamo se aggiungerlo perché vederlo così mi spaventa e non poco, quindi prendo questi due e li applico nella piega e nell'angolo esterno. Ora prendo Eclipse, che è questo qui, e lo applico all'angolo esterno, vediamo cosa viene fuori. Vado a bagnare il pennello perché da asciutto non mi fa impazzire come colore. Non so se voi riuscite a vedere la differenza, ma molto meglio da bagnato rispetto a asciutto. Ora sulla palpebra mobile utilizzo questo e vado ad applicarlo con le dita perché voglio vedere se cambia oppure per forza bisogna utilizzarli bagnati come ombretti. Io non so se riuscirete a percepirlo, però anche con le dita è un buon buon effetto. Quindi si sono quei classici ombretti metallizzati che rendono molto di più con le dita, quindi andando a pressare sulla palpebra mobile oppure da bagnati. Secondo me sì. Comunque, tralasciando un attimo il trucco occhi, procedo con la base. Non ho acquistato un fondotinta, non ho acquistato due fondotinta, ma ho acquistato ben tre fondotinta da questo sito e sto avendo dei seri problemi ultimamente con il fondotinta, me ne sto rendendo conto. Non è mai stato un prodotto make-up, anzi, forse era l'unico prodotto make-up che non mi attirava particolarmente, di cui non volevo provare così tante novità in uscita, però ultimamente appunto sto cadendo anche nei prodotti fondotinta ed è un serio problema, cioè non ci mancava tutto il resto, quindi non usciremo mai dal vortice del make-up, non ci si può fare niente praticamente, quindi può sempre e solo peggiorare, ma non so cosa sto dicendo, quindi tralasciamo. E ho preso questo qui, che si chiama Revolution Pro Full Cover Camouflage Foundation, io ho preso la colorazione F3, ha un costo di 7,99€, contiene 25ml di prodotto e ha una scadenza di 6 mesi dell'apertura. Poi ho preso il Revolution Pro Foundation Drops nella colorazione F4, questo costa sempre 7,99€, contiene 18ml di prodotto e ha una scadenza di 12 mesi dell'apertura. E per ultimo ho preso questo qua, che si chiama Revolution Make-up, quindi non è della stessa linea di tutti gli altri prodotti che vi farò vedere, nella colorazione F6 e ha un costo di 5,99€ per 6,2g di prodotto e una scadenza di 12 mesi dell'apertura. Adesso vi metterò anche una clip di tutte e tre messe insieme e ve li mostro anche su qui, quindi inizio con l'F3, l'F4 e l'F6. Mi rendo conto di averli swatchati malissimo, però spero che voi riuscirete a percepire la differenza tra lasciando il rossore sulla mia guancia. L'F6 è davvero davvero tanto giallo, però sapevo già di questa cosa perché comunque mi sono informata, ho guardato delle recensioni prima di acquistarlo e l'ho acquistato lo stesso pensandolo come un colore estivo, quindi quando sono leggermente abbronzata comunque tendo a scaldarmi rispetto al solito e appunto l'ho preso pensando a quello, però a vederlo così è davvero tanto tanto giallo. Una cosa che vi devo dire su questo sito è per quanto riguarda le colorazioni. Quando andate sui fondotinta, sotto nella descrizione ci sono tutte le shade, contra parentesi, il sottotono, su quale carnagione è consigliata, eccetera. E mi sto rendendo conto che l'F4 viene considerato come un color per pelli chiare con sottotono neutro, quando in realtà è decisamente rosato come sottotono, quindi state attenti a questa cosa. L'F3 invece è consigliato per sottotono rosato, però con carnagione molto molto chiara, mentre appunto l'F6 è consigliato per una carnagione chiara media, da quello che ricordo, con sottotono giallo, quindi caldo. Quindi appunto andrò a utilizzare questo qua, però ditemi nei commenti, o magari vi metterò un sondaggino qua in alto, se vi può interessare tipo un video test degli altri fondotinta, perché appunto io ho preso diverse colorazioni perché ero indecisa, essendo il primo fondotinta di questo brand che andavo a provare, e siccome volevo provarli tutti, non ho preso tutti i colori di uno stesso fondotinta, ma appunto sono andata un po' a variare tra quelli che credevo potevano andare a bene a me, quindi mi sono fatta un po' un'idea. Da quello che ho capito, tutti i colori dei vari fondotinta sono uguali, quindi l'F3 di questo qua è molto simile come colore all'F3 di un altro, eccetera, eccetera. Comunque, tralasciando questo, ne metto un po' sulla mano, ed è appunto un fondotinta full coverage, quindi ha una texture, come vedete, molto densa, non tra le più dense, tipo quello di Puro Bio è ancora più denso, secondo me, o quello di Kat Von D è ancora più denso, però sicuramente non è liquido liquido, e andiamo con la Beauty Blender. Quindi, questa è la differenza, io penso che si possa notare la coprenza, perché mi ha praticamente annullato del tutto i rossori, sia dei brufoletti, ma proprio anche quelli che ho qui, come vedete, sono scomparsi, quindi questa è la prima parte, adesso vado a fare l'altra, e poi continuiamo. Quindi, questo è come risulta il fondotinta applicato, e devo dire che, come prime impressioni, non mi dispiace affatto. L'applicazione è stata semplicissima, però, d'altronde, con la Beauty Blender mi trovo bene, come sapete, quindi non mi preoccupavo molto per l'applicazione, però l'effetto, per ora, non mi dispiace, non va a evidenziare particolarmente le zone secche, quindi, per ora, non è affatto male. Per quanto riguarda la colorazione, sono andata a vedermi alla luce del sole, e risulto un po' troppo rosata rispetto al mio collo, come sapete, io, in generale, ho un sottotono neutro, e questo è un filino troppo rosa, magari con queste luci artificiali non notate molto questo stacco, perché neanch'io lo noto tantissimo, però cambia molto con la luce naturale, infatti penso proprio che l'F4 sia troppo rosato per me, però, magari, se voi avete degli swatch di questi fondotinta in diverse colorazioni rispetto a quelle che ho preso io, se volete mandarmi uno swatch su Instagram, così riesco a capire meglio, tipo, se avete l'F1 o l'F5, giusto per avere un'idea più precisa, perché, appunto, l'F1, vedendolo online, mi sembrava troppo, troppo chiaro, per me, anche se aveva un sottotono neutro, e non lo so, non penso di aver fatto la scelta giusta, ecco, insomma. Comunque, per quanto riguarda i correttori, ho deciso di prendere questo qua, che è il Revolution Pro Full Cover Camouflage Concealer, nella colorazione C9, che è praticamente lo stesso concetto del fondotinta che abbiamo appena applicato, infatti anche il packaging è molto, molto simile, ha un costo di 5,99€, contiene 8.5ml di prodotto, e ha una scadenza di 6 mesi dell'apertura. Ho preso questa colorazione decisamente più scura della mia carnagione, perché vedendo gli swatch online, mi sembrava avere un sottotono aranciato, pescato, perfetto come correttore correttivo per le occhiaie, e quindi mi sono buttata su questa colorazione, speriamo bene. L'altro, invece, che ho acquistato, pensandolo come correttore illuminante, quindi come correttore da applicare sopra a questo qui, è lui, il famosissimo correttore di Revolution Makeup, quindi dello stesso brand, del fondotinta in stick, anche se in effetti è tutta la stessa casa, però ok. E questo è il Concealer and Define Full Coverage Conceal and Contour, nella colorazione C2, ha un costo di 4,99€, contiene all'interno 3.4ml di prodotto, e ha una scadenza di 12 mesi dell'apertura. Quindi vado ad applicare prima questo qui, e vediamo se funziona per correggere le mie occhiaie. è molto più denso come texture rispetto al fondotinta, che abbiamo appena applicato, si vede che è molto più corposo, infatti ho paura che sul mio contorno occhi non faccia un bellissimo effetto, però proviamo. Quindi questo è l'effetto, ora vado a utilizzare quello più chiaro, non ne metto tanto, perché comunque anche in questo caso dovrebbe essere full coverage come correttore, e il mio contorno occhi non è proprio adatto per questo tipo di correttori, me ne rendo conto. Allora, non so se potete notare la mia faccia molto molto perplessa per quanto riguarda questi due prodotti, perché non riesco proprio a capire se mi piacciono oppure no. Cioè davvero non ho neanche una prima impressione, perché non saprei, sicuramente me li immaginavo peggio, pensavo che specialmente utilizzati insieme andavano proprio a segnare tantissimo il mio contorno occhi. In realtà, sì, sicuramente un po' viene segnato rispetto magari ad altri correttori, però neanche così tanto. Però davvero non riesco a capire se mi hanno coperto oppure no. Cioè, nel senso, mi hanno coperto rispetto a prima, sicuramente, però non so se mi hanno coperto di più o di meno rispetto alla combo che vi ho mostrato in qualche video ultimamente, magari ve lo lascio nelle schede qui in alto, quella di Catrice, che ultimamente sto amando, come sapete. Quindi, non lo so, su questi due prodotti vi tengo un attimino tipo boh, non lo so, davvero, ragazze, non lo so, non so dirvi un sì, non so dirvi un no, non lo so. Vi terrò aggiornati. Devo rifletterci, ecco, devo rifletterci. Comunque, vado a fissare l'intera base con le mie soliti cipre, quella di Mulac e quella di Essence, siccome non ho acquistato cipre di questo brand, e torno. Adesso che ho applicato la cipria, noto che il fondotinta risulta un pochettino troppo pesante, sta un po' segnando le zone secche della mia pelle, infatti andrei con uno setting spray per togliere un po' questo effetto cake, un po' questo effetto così, del fondotinta. Le mie spiegazioni sono sempre molto molto professional, tipo con quello di Urban Decay, o con questo qua di Glam Glow, comunque con un setting spray idratante e non mattificante, perché appunto è già molto opaco da solo questo fondotinta. Comunque, andiamo a fare il contouring e utilizzo questo trio che si chiama Revolution Pro Light Highlighter and Contour Refill Face Powder che ha un costo di 6,99€, ogni cialda contiene 2 grammi di prodotto e ha una scadenza di 12 mesi d'apertura. E inizio appunto con la terra che non è totalmente una terra fredda, magari adesso ve la faccio vedere meglio. Ok. Vedete che non è completamente fredda come quelle che piacciono a me, quindi Hypno di Mulac, Gotham di Nabla, è un po' calda per i miei gusti, però appunto andiamo a vedere come si comporta. Ora vado a prendere la Banana Powder, loro la chiamano, solo che io non la utilizzo come cipria per illuminare il contorno occhi, perché trovo che per il mio contorno occhi è un po' troppo spessa come texture rispetto appunto a quella di Essence che risulta praticamente impercettibile. Questa è un po' troppo, infatti vado a utilizzarla solo per ricreare le zone luce opache del mio viso e per delineare meglio il contouring, quindi vado ad applicarla qui con la Beauty Blender per appunto farlo più tagliato. Non è un effetto che a me piace e non è un prodotto che tendo a utilizzare spesso, però appunto dato che la devo testare, utilizziamola. ho applicato anche il blush off camera e ho utilizzato un mix tra Bell e Klimaz di Mulac perché non avevo acquistato niente della Revolution Makeup, adesso devo pensarla in questo modo. Comunque vado ad applicare questo illuminante solo da questo lato, però perché dopo vi mostro altri illuminanti che ho preso, sapete la mia fissa per gli illuminanti. Utilizzo sempre il solito pennello di Real Techniques. Quindi questo è l'effetto con circa 5 passate ed è sicuramente uno di quegli illuminanti modulabili, stratificabili, ma con comunque un effetto naturale, anche come texture è molto sottile, infatti nonostante comunque io ho abbondato, non metto in evidenza la texture la grana della pelle, quindi è buono come illuminante, davvero mi piace tantissimo e trovo che con la mia carnagione sia perfetto, non fa la strisciata, anche se appunto ha un sottotono rosato, è molto molto bello, davvero davvero bello. Quindi, in sostanza, di questo set mi è piaciuto tantissimo l'illuminante. La terra la trovo più sfruttabile quando sarò leggermente abbronzata come appunto bronzer, perché come terra vera e propria, adesso che sono chiara, non lo so, così tanto calda non mi fa impazzire, non è comunque una di quelle terre calde aranciate, cioè non è, non sono arancione in viso, però ecco, per quelli che sono i miei gusti preferisco qualcosa di un attimino più freddo, mentre questo qui non mi è piaciuto per niente, sia perché non è uno di quei prodotti che utilizzo solitamente, ma anche perché è comunque troppo scuro per la mia carnagione, mettendolo proprio tamponato con la cipria ho notato che comunque lo stacco c'era. Comunque, andando al prossimo prodotto, vi mostro questa palettina, questo trio di illuminanti che sono molto più potenti, infatti anche come finish è diverso, se l'altro era un po' satinato questo è praticamente metallizzato, non ci sono all'interno dei glitter o delle perle, ma è proprio molto molto luminoso, si chiama Supreme Highlighter nella colorazione metal, perché ne esistono altre due, ha un costo di 6,99€, ogni cialda contiene 3.7 grammi di prodotto e ha una scadenza di 6 mesi dall'apertura. Diciamo che come colori non sarebbe adatta come palette alla mia carnagione, perché comunque risultano abbastanza scuri, essendo io molto molto chiara, però la palette dedicata alle pelli chiare era tipo con i soliti colori azzurrini, rosatini, bianchini, che sinceramente mi hanno un po' stancato, quindi sono andata su questa. Oggi voglio provare questo qua, che è molto strano, sembra un champagne top, tipo, spero tanto non faccia l'effetto grigio su di me, quindi andiamo sempre con quello di Real Techniques dall'altro lato, dove non ho applicato l'altro illuminante, e andiamo. Questi hanno una texture anche quasi più cremosa rispetto all'altro, quindi questo è l'effetto di questo illuminante con all'incirca 2 barra 3 passate, sicuramente più polveroso come texture rispetto all'altro, ma è anche più percettibile, cioè più strong, in più se avete dei pori dilatati come nel mio caso non vi consiglio di andare dove li avete perché altrimenti un pochettino li mette in evidenza proprio perché è una texture particolarmente cioè si sente insomma, non so come descriverlo, però vi ripeto a me l'effetto così di un illuminante piace e sì, a me piace tantissimo, l'unica cosa è che probabilmente come palette non fa al caso mio, non fa al caso della mia carnagione molto chiara perché non so se voi riuscirete a percepirlo, un minimo di alone scuro in questa zona rispetto a quest'altro c'è non tantissimo, non è proprio una macchia però un pochettino sì quindi sicuramente questo e questo se dosati bene riesco a utilizzarli ma questo no assolutamente no però vi ripeto a me l'effetto così piace ora vado a fare il contouring al naso perché me lo stavo dimenticando ma non utilizzo la terra che ho utilizzato sul viso perché appunto è troppo calda vado a prendere ipno di mulac e torno subito ora passiamo alla parte dolente di questo video perché io ho già swatchato questo prodotto e so che non andrà bene con le mie sopracciglia perché appunto si tratta di questo qua ossia il Revolution Pro Micro Blending Effect quindi una matita per sopracciglia nella colorazione top con quella mina sottilissima fine automatica e dico che è il prodotto dolente perché nonostante venga indicato come una matita per capelli da biondo scuro a castano chiaro o medio freddo però la colorazione a me non sembra proprio come viene descritta però appunto adesso andiamo a provarla è davvero sottilissima come matita da un lato ha lo scovolino per pettinare le sopracciglia mentre dall'altro la mina io appunto vado a pettinare un attimino le mie sopracciglia sapete che io già ho dei problemi con le mie sopracciglia nel senso che non so mai farle bene e mai uguali però ci proviamo sicuramente la cosa che va a suo favore è la mina ultra ultra sottile però a questo punto io preferisco le Nabla se devo andare a prendere una matita di questo tipo perché il colore delle Nabla è perfetto se non erro io ho la Neptune confermo tutto quello che ho detto prima il colore sembra tipo un marrone verde orribile caldo cioè non è assolutamente freddo come colore si vede tantissimo lo stacco con le mie sopracciglia dove appunto ho i buchetti non oso pensare a una ragazza con i miei colori di capelli ma con delle sopracciglia da rifare completamente no cioè no vi ripeto meglio quelle di Nabla nonostante comunque come texture non è affatto male anche come applicazione non è una mina troppo troppo dura però il colore no cioè no comunque torniamo agli occhi e vi mostro gli ultimi due prodotti che ho acquistato nonché anche i prodotti da cui è partito tutto l'ordine quindi tutti questi danni li ho fatti principalmente per prendere e per avere tra le mani questi due io non so voi ma appena li ho visti mi sono venuti gli occhi a cuoricino sono praticamente dei glitter pressati in refill ognuna ha un costo di 7,99€ contengono ogni cialda 1.2 grammi di prodotto e hanno una scadenza di 12 mesi dall'apertura oggi da questa palette vado ad utilizzare questo colore qui perché comunque si avvicina di più al look che ho indossato anche in questo caso come nella nella palette per il viso essendo in questo packaging qui andrò una volta finito il video a toglierlo perché è davvero scomodissima vi faccio vedere il colore da più vicino è praticamente luce pura io ho già applicato una colla per glitter utilizzato questa qua di Nitz la glitter primer che utilizzo sempre ho notato che questi glitter di Revolution Makeup sono più pressati rispetto a quelli di Mulac ad esempio alla fine mi sono fatta prendere un attimino la mano e li ho messi praticamente ovunque ma sono davvero meravigliosi spero tanto che in video rendano ma davvero sono spettacolari ora nell'angolo esterno vado ad aggiungere un pizzico di nero ma proprio un pizzico mentre tra le ciglia inferiori faccio un mix tra questo che abbiamo messo prima quindi Eclipse e ancora il nero ora faccio una riga sottilissima con una matita marrone scuro metto il mascara e torno alla fine sono andata ad aggiungere un po' di nero verso l'angolo esterno e ho fatto il danno perché questo nero non è proprio semplicissimo da sfumare ho fatto un po' fatica e infatti non so non mi fa impazzire quello che è venuto fuori nel complesso come palette le ho trovate entrambe un po' polverose come ombretti però con un primer hanno fatto il loro dovere tra le due ho preferito questa qua perché la trovo più performante rispetto a questa qua specialmente questi colori vi ho detto vanno utilizzati per forza bagnati secondo me però anche per quanto riguarda gli opachi come pigmentazione secondo me questa è migliore comunque arriviamo all'ultimo prodotto ossia le labbra ho preso questi due qui che sono i pro supreme matte lip pigment questo è il packaging hanno un costo di 4 euro e 99 contengono al loro interno 2.5 millilitri di prodotto e hanno una scadenza di 12 mesi dall'apertura io ho acquistato la colorazione ardent e elevation io penso proprio che con questo look andrò ad applicare elevation perché ardent è un po' troppo acceso infatti l'ho acquistato pensandolo come colore estivo primaverile perché comunque è un fucsia molto brillante con del rosso all'interno non so è particolare come colore mentre appunto elevation è più un colore nelle mie corde è comunque scuro e con del rosa all'interno quindi vado ad applicare lui vediamo com'è quindi questo è il look completo devo dire che come colore è bellissimo però me lo immaginavo molto più scuro vedendo lo swatch sulla mano quindi non so quanto può starci bene con questo makeup la texture mi piace davvero davvero tanto è super opaco fa questo effetto bellissimo sulle labbra pigmentato fin dalla prima passata bisognerà vedere la durata quindi vi ho detto un po' le prime impressioni per questi prodotti novità di Revolution Makeup sicuramente più avanti nei video oppure su Instagram vi farò sapere una recensione quindi vi dirò nel totale come mi son trovata io spero tanto che questo video vi sia piaciuto vi abbia tenuto un po' di compagnia se così è stato lasciatemi un commentino sotto oppure un mi piace e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao Grazie.